Il Comune di Montecatini ha reso noti i cinque progetti approvati e finanziati nell'ambito del My Time for Montecatini, un'iniziativa attivata dal 2010 e riservata alle associazioni che dedicano tempo e risorse alla città, con progetti educativi e con finalità sociali che attraverso un bando dell'amministrazione ottengono punteggi in base alla qualità e al tipo di proposta per ottenere conseguenti finanziamenti. L'amministrazione per My Time 2016 complessivamente ha stanziato 15.500 euro. Quest'anno i vincitori del progetto dell'area delle politiche sociali, educative e giovanili sono stati cinque, la società di soccorso pubblico, l'associazione culturale Le Estrenne di Bal, l'APS Crescere Insieme, l'associazione Biroc e l'ASD Scacchi Montecatini. L'obiettivo del progetto My Time for Montecatini è l'obiettivo di coinvolgere le realtà associative e le risorse umane presenti nel territorio che intendo fare qualcosa per Montecatini, quindi attraverso progetti di carattere sociale, progetti di ricerca sociale, rivolti anche alle fasce deboli, alla genitorialità incerta, rivolti a stimolare la cittadinanza attiva, alla partecipazione. Noi siamo molto soddisfatti perché quest'anno abbiamo visto la presentazione di diversi progetti da parte di ragazzi giovani, di ragazzi giovani laureati con titoli che sono stati supportati e sostenuti dalle realtà associative cittadine.